Ma intanto le film commission nei territori avvisinano più il pubblico al cinema e questa è la cosa più importante che sono riuscito a ottenere. Poi per quanto riguarda le produzioni mi sembra che specialmente per la televisione hanno funzionato molto bene e visto la vostra per esempio la film commission della Puglia mi pare che sia stata una delle prime che ha dato un grande supporto al cinema italiano. In più ci vuole maggiore flessibilità sulle coproduzioni con l'estero, questa è la verità e speriamo che continui ad agire così e ce lo auguriamo tutti quanti.